50.000, tanti sono i modelli per pagamento immun attesa di essere spediti dal CAF CISL di Verona, il più grande della provincia, nel quale si tocca con mano il disagio provocato dall'ennesimo ritardo dell'amministrazione italiana, questa volta riguardante appunto la tassa sugli immobili. Difficile muoversi in questa burocrazia che va sempre più interpretata forse. Sì, è complicato soprattutto perché abbiamo tempi stretti e i comuni devono ancora deliberare molte cose entro il 31 del mese, per cui insomma siamo un po' in affanno. I cittadini sono poi in affanno. In affanno e preoccupati? Sì, preoccupati perché comunque fondamentalmente non sanno ancora cosa pagheranno a dicembre. Molti comuni hanno dovuto muovere le alicote per cui la preoccupazione è legittima. Il rischio sono anche le multe, chi pagherà poi alla fine questa difficoltà, questa confusione? Il rischio sono le multe, insomma se si paga l'imo in ritardo bisogna immediatamente provvedere con una cosa che si chiama ravvedimento peroso, quindi bisogna passare un CAF e farsi fare i calcoli dei pochi interessi che bisogna pagare per il ritardo. Ricordo che la scadenza è 17, dal giorno dopo c'è una piccola sanzione. Altro problema riguarda la ridichiarazione. A poco più di un mese dalla scadenza fissata non è stato ancora approvato il modello di dichiarazione. La consulta dei CAF si appella dunque al governo chiedendo che il termine di presentazione della dichiarazione venga fissato entro a 90 giorni dalla data di pubblicazione del modello e delle relative istruzioni. che cosa oggi la nostra gente, i cittadini, non sanno tra le tante cose che sono cambiate che si dovrebbero sapere? L'immo è cambiata molto. C'è una dichiarazione immo che il modellino doveva uscire ancora a settembre invece è ancora in bozza. Entro il 30 di novembre bisogna fare delle comunicazioni. Per esempio Verona è una cosa a cui è interessata sicuramente. Sono tutti proprietari di abitazione principale o di abitazione comunque storica per cui le persone proprietarie di abitazione storica devono fare una comunicazione al comune. questa cosa non credo che in tanti la sappiano e sarà sicuramente sanzionata se non accadrà. La domanda che ci facciamo sempre è perché siamo arrivati così in ritardo? È difficile. Insomma l'immo l'hanno inventata quest'anno, l'hanno approcciata due anni prima del tempo. Io non voglio scusare il governo ma sicuramente è cosa complicata. Per noi che siamo i tecnici siamo in affanno perché non abbiamo i tempi proprio perfetti per poter intervenire su ogni singola pratica. Speriamo che Dio ci ha la mano di buona. I nostri comuni, soprattutto i più piccoli, sono attrezzati di fronte a queste problematiche? Non credo che siano molto attrezzati, sicuramente sono in difficoltà. Insomma qualche comune deve ancora deliberare, devono fare un bilancio, devono capire esattamente quanti soldi devono rimanere. I comuni più piccolini non hanno ancora deliberato. Comunque su 97 comuni della provincia 80 le delibere, adesso ce le abbiamo.